Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! Ed è il gioco rivelazione del 2023, che cos'è? È una sorta di, chiamiamolo roguelike, ma anche se in realtà non è proprio così, con un'ambientazione lovecraftiana, in pratica, vi spiego, non sarà un video lunghissimo, insomma voglio solo introdurvi quelle che sono le meccaniche di gioco. Il gioco ha questa mappa, adesso io non so se vado avanti ma potrebbe anche essere, dove noi abbiamo vari porti che scopriremo, ogni porto, ogni location ha determinati tipi di pesci da pescare e determinati porti a cui attaccare, oltre che delle missioni, oltre che dei messaggi in bottiglia che approfondiranno la storia. Vi faccio vedere, questo qua è il, vabbè, sopravviamo il giorno, l'ora, il giorno e l'ora vanno avanti solo quando noi peschiamo o siamo in movimento, quando siamo fermi non succede nulla, quindi possiamo andare a riposare oppure fare queste altre cose. Il gioco è bello perché ci sblocca man mano che noi andiamo avanti nuove features, nuove cose da fare, all'inizio non avremmo tutto questo e aumenteranno ancora. In sintesi, abbiamo la possibilità di partire, di dormire e di fare la ricerca, quindi noi mettendo da parte degli ingranaggi, ne abbiamo uno solo, possiamo andare a sbloccare nuovi oggetti, perché ogni oggetto, che possono essere una canna, un mulinello, un argano per pescare, nuovi motori, le nasce, le reti, ci consentono di fare cose diverse. E quindi questa è già una feature di gioco. Abbiamo la possibilità di andare dalla maestra Dasha, che ci consente di acquistare delle canne da pesca al momento, riparare la nave, o acquistare nuovi motori, nuovi reti e nuove luci. Abbiamo la nostra nave, la nostra nave ha questa particolarità. Quando noi andiamo a smontare un motore, vedete due ore, passeranno due ore per smontarlo e due ore per rimontarlo. Io adesso ho messo due motori, due motori così ho un po' più di spinta. Ma non possiamo montare dove vogliamo, vedete che qui ci sono il simbolo del lamo, quindi possiamo metterlo solo qui. Possiamo ruotarlo come meglio crediamo, però lì lo possiamo mettere insomma, quindi dobbiamo metterlo come c'è più comodo. E qua sono uno spazio per la canna, vedete che passa il tempo perché mi rimonta la canna sulla barca. Qua abbiamo uno, due, tre, questo è inutilizzato, per un'altra canna e qua davanti per delle luci, una sola. Qua posso montare una luce, cioè se io vado da lei e compro una luce, posso pagarla. Ho il 231, posso prendere una lampada incrinata, l'acquisto a 100, tempo di installazione un'ora, io la prendo, la compro e me la faccio installare. Passa un'ora e l'ho installata. Abbiamo anche il magazzino dove nel magazzino mettiamo appunto i componenti per la ricerca e ulteriori canne. Ogni canna ha una peculiarità di poter pescare un tipo di pesce, in questo caso pesca al superficiale e così via. Abbiamo anche gli NPC che ci parlano, qui ci parla di una fotografa e gli ho proposto di scattare delle foto del villaggio, scoppio promozionali, non sembra sarebbe andato assurdo che si farle visita. Ok, abbiamo un'altra missione da fare. Abbiamo qua sotto, vedete se ci sono delle personalità all'interno del villaggio, le vedete qua sotto e poi potete parlarci. E possiamo chiedere informazioni sulla zona e così via. Non è finita perché abbiamo il bacino di carinaggio che ci consente invece, se disponiamo dei materiali necessari, di potenziare, vedete che si sono segnati in rosso, possiamo potenziare gli spazi per le canne all'interno della stiva della nave, gli spazi per le reti, aumentare lo scafo e così via. E qua potenziamo con i materiali e parecchi soldi lo scafo, quindi aumenta la nave. I pesci vendoli invece è il fulcro di quello che possiamo fare all'inizio perché noi qua vendiamo i pesci, quindi in pratica se abbiamo dei pesci, glieli possiamo vendere. E ci dà anche delle missioni, le missioni che ci dà adesso io non dovrei vederle qui, però in pratica ci dice guarda è arrivato quel cliente, ci ha chiesto quell'oggetto, quei pesci lì. E quei pesci lì però calcola che li trovi solo in quella zona, in quel tipo di circostanza, solo di notte e così via. Perché la notte? La notte è importante perché la notte, la notte vi ho detto che è un'ambientazione lovecraftiana e infatti così è. Nel senso che di notte sale l'ansia e ci sono i mostri. Questa è una zona di pesca, vediamo se possiamo pescare, sì, in questo caso è costiero, abbiamo la canna sufficiente quindi iniziamo a pescare. Dobbiamo semplicemente cliccare nel momento giusto, semplice, abbiamo preso il pesce e lo possiamo mettere nel punto che vogliamo. Ogni pesce ha la sua forma, ogni regione, ogni... e vedete qua, l'ho fatta. Non è messo proprio benissimo così dovrei posizionarlo meglio. Qua abbiamo finito la risorsa quindi andiamo avanti. Premendo il tasto A possiamo andare a suonare, rendere nota la nostra posizione, passare le luci e passare al canocchiale. Il canocchiale è utile perché nel momento in cui siamo fermi il tempo non passa, quindi possiamo vedere i pesci in lontananza, possiamo vedere che villaggi abbiamo all'orizzonte, sgombra o sta... Vediamo se ci serve un pesce particolare. Il merluzzo è parecchio grande. Se invece io mettessi appunto le luci, accendo le luci, quello che abbiamo montato davanti, ci serve per impazzire un po' meno di notte, perché alcuni pesci si trovano solo di notte, così come le boe o il faro aiutano a tenere lontane le caricature. Qua abbiamo una pesca di questo pesce qui. Vedete che ha una forma particolare che però combacia perfettamente con quella forma di cui ho bisogno. Vedete, così riempio la nave in modo vario. All'inizio il sindaco ci trova arenati in questo villaggio, sulle coste di questo villaggio e ci dà una nave in prestito. Quindi in pratica dobbiamo restituire più in piano il prestito, un po' come Nucca su Animal Crossing. Sì, anche questo. Vedete che questo è leggermente diverso come gioco, perché questi sono pesci un pochino più ingombranti. Ho sbagliato. Io direi che è una zona sfruttata al massimo. Possiamo dare un'occhiettina ancora con il canocchiale. Questo non possiamo pescarlo. È comodissimo perché tante volte vi recate sul posto ma non lo prendete. Di là, Merluzzo, forse ancora un po' di spazio. E di là c'è un altro villaggio dove vorrei andare. Tra l'altro potete andare anche premendo Tab a vedere appunto la stiva, ma soprattutto la cabina. La cabina si divide in queste, si divide in libri. In pratica se noi prendiamo dei libri, cliccando mentre noi ci muoviamo, lui sale la percentuale della lettura e ci dà dei bonus. In questo caso leggo questo. Vedete che lo metterò a leggere. Abbiamo le attività, quindi abbiamo le missioni che ci vengono date, quindi recuperare questo, recuperare questo, andare all'incontro sull'isola Rocca Nera, in questo caso la fotografa. Abbiamo la mappa, l'enciclopedia che ci dà tutte le informazioni su quello che abbiamo fatto, tutti i tipi di pesci che ci sono. E abbiamo i messaggi. E qua è una storia, una storia che ci viene raccontata man mano, con le date. In pratica c'è questa coppia che appena sposata si è messa subito in nave, è andata a pescare, in barca è andata a pescare. E è spuntato improvvisamente un scoglio da sotto l'acqua, ha danneggiato la nave, poi sembra che siano scomparsi, insomma. Quindi sarà un po' complicato. E però abbiamo questa storia fatta di mistero. E io credo che adesso abbiamo praticamente finito qui, perché non c'è più nulla. Adesso andiamo qua, perché a questo villaggio, se io attacco qui, dovrei poter vendere questo oggetto qua. Ed è decorato con motivi cremesi. Vendi Ninoli. No, non posso venderlo, è ancora un mistero quello che mi servirà. Questo, niente, lui compra roba, ma non compra niente adesso, non ho trovato niente. Abbiamo il magazzino, che è il magazzino in comune con tutto, quindi glielo metto qua. Perfetto. E basta. Non possiamo smontare le roba dalla nave, perché non possiamo. Le missioni che ho attive al momento, devo recuperare un pesce che lo si trova solo di notte, quindi è un problema. Io non sono mai uscito da questa sorta di baia, tra queste due isole. Là ce n'è un'altra ancora, ma non ho ancora visto niente. Perché ho onestamente un po' paura di andarci. Perché la notte, adesso vi faccio vedere, vaghiamo un po' a caso. Costiero, forse ci sta, riusciamo a pescarlo questo. Sì. E non ho altro modo, devo proprio fermarmi. Il pescatore, cioè il pescivendolo, è aperto tutti i giorni, giorno e notte, quindi non c'è modo di trovarlo chiuso, insomma. Vedete che poi, adesso sta arrivando la notte, come vedete in alto, dove c'è l'ancora. L'ancora tra poco diventerà un occhio e diventerà l'ansia che sale. Infatti adesso arriva il buio ed escono le creature lovecraftiane. Insomma, quelle di Ictulu e così via. L'altra cosa molto interessante è se andate a sbattere con la nave contro gli scogli, la danneggiate, quindi pagate per ripararla. In questo caso i pescivendolo, vendo tutti i pesci e faccio 131. A questo punto io ho un bel gruzzoletto, vediamo se posso prendere dell'altro. Vediamo, le canne non mi servono, queste non ha niente, il faro non ce l'ho, quindi noi facciamo un esperimento andando fuori di notte. Accendendo anche la luce, magari così. Perché spuntano gli scogli, proprio succedono cose brutte di notte. Vediamo questo pesce qui. Acqua agitate, troviamo questo. un calamaro freccia. Vedete il tempo, oh, l'ho preso giallo. Infatti era uscito il tassellino giallo da targhettare. Questo qui è di qualità. Di notte ci sono le peggio cose, quindi dobbiamo vedere se abbiamo delle attività da fare. Calamaro freccia 2 e una cernia nera, boccano solo di notte. Vedete, questo è un compito a mio rischio perché di notte si vede poco e soprattutto a un certo punto inizieranno a comparire degli occhi in giro per il mondo. E non sarà proprio una bella cosa perché arrivano le creature di Cthulhu. Vediamo, vediamo se riesco ancora a girare un secondo. Vedete, quello lì è molto cattivo, ma più che altro non è il classico gioco che io vi voglio proprio spolpare o spoilerare perché se è stata una delle rivelazioni indie più inaspettate c'è un motivo e deve piacervi la meccanica. Ora, in questo caso l'ansia sta salendo, non so cosa porterà, ovviamente chi lo ha già giocato lo sa già, ma sappiamo che dobbiamo andare a... Ecco, vedete, là in fondo c'è qualcosa. Adesso voglio vedere chi è. Vedete cos'è quel coso lì. Non c'è carburante o roba del genere, se è una delle domande che vi viene. O almeno per il momento non c'è. Perché poi questa qui è ancora la zona iniziale, quindi... Io voglio vedere dove sono. Adesso sono arrivato quasi dall'altra parte. E niente, ci stiamo, secondo me, anche un po' impanicando. Ecco, scafo danneggiato. Così vediamo anche quanto costa ripararlo. Si vedevano molti più occhi dietro, ma adesso siamo un po' terrorizzati, quindi ci stiamo un po' inventando le cose. Però dovremmo avercela fatta. Adesso ci fermiamo qui. Sembra esausto, non si stare mica dimenticando di dormire. Come dico sempre, ok, devo fare le pause. No, però io vado pescivendolo. Preso qualche pesce per quell'ordine, sì. Vedete che dobbiamo depositare i due. No, questi li ho già depositati, devo depositare la cernia nera. Quindi niente, gli dico che ho fatto. E niente, vendiamo i pesci, 31. Si è rotta la nave, vedete che infatti qua non posso mettere nulla. Ma andiamo alla maestra d'ascia che ci ripara tutto per 30. Quindi il prodotto del pesce è andato. Dormo, riposo fino all'alba, sono ancora un po' stanchino. Quindi mi sta che dormirò ancora. Fino all'alba del giorno dopo. Perché mi manca quella cernia lì, che devo prendere di notte, assolutamente. Ok, mi fermo alle 20. Parato alle 20 e cerchiamo quel pesce lì. Sempre che non faccia una brutta fine. Non avrei parato, avrei tornato disponibile la parte di scafo. Tra l'altro porterò più avanti Dave The Diver, un altro dei giochi che ho comprato adesso con gli sconti. E pare ci sarà, o c'è già, un DLC che unirà Dave The Diver ad Regge. Quindi in pratica le navi che noi costruiremo qui ce le potremo esportare anche su Dave The Diver. Però non ho approfondito ancora più di tanto questa meccanica. ma sembra essere un DLC caros game davvero interessante. Perché non lo so io dove sono quei maledetti pesci che mi servono. Qui? No, vabbè, già che ci sono lo pesco. Intanto faccio due soldi. Ok. Sta. Voglio capire dov'è. Forse lì dietro. Ok. Le luci ci danno una grossa mano. Ma quello non so cosa sia. Cos'è? Acqua agitata. Un calamaro covatore. No, no, mi serve spazio. C'era quella luce lì, quel riflesso lì, un po' strano. Mi sono perso, credo. Dovrei andare di là. Ok, guarda in cabina per i bonus. Praticamente ho letto, ho finito di leggere anche il libro. Vediamo. Tecniche. Le canettiere hanno la sedita e pesce il 10% con più efficacia. Ok. E questo invece. Leggo anche per prendersi quel proprio motore. Così almeno ci portiamo avanti. Niente, non riesco a trovarlo. Forse lì, forse qua. Per il momento non la stiamo soffrendo più di tanto, ma questo qui. Nucleo centrale illuminato, sacca gelatinosa, spuntano dei tentacoli. Va bene, niente, voglio andare a consegnarlo che ormai è chiaro e siamo un po' stanchini. Ci riprende ancora il sindaco che non abbiamo dormito abbastanza. Siamo un po' turbato per colpa della nebbia. In queste parti normali, buona nottata di riposo. Sì, va bene. Precipendo, lo vediamo. No, non ho niente, credo. Perché mi serve la cernia nera, non ce l'ho. Vendimi l'altro, dai. Perfetto, mi è venuto un bel po' di roba. Abbiamo un po' di soldi adesso. Vediamo se possiamo fare... Perché tra l'altro qui mi dà più 14 e più 10. Canne sono sempre quelle. Quindi niente, no, non possiamo fare ancora niente. Io vi lascio spazio magari per darmi un commento, quello che pensate nei commenti sotto. Perché magari ci potremmo fare anche una live in futuro. Per il momento non voglio fare un video troppo lungo. È una presentazione di quello che è il gioco. Magari fatta in modo meno gameplay di tanti altri. Però insomma, volevo presentarvi questo ottimo titolo del 2023. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. E alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.